Lei ricorda l'ora di educazione civica a scuola? Sì, altro che se me lo ricordo. Io ho una certa età e c'era un'ora alla settimana dedicata all'educazione civica e i nostri insegnanti di storia provvedevano a raccontarci quello che era accaduto dal dopoguerra in poi. Credo sia molto importante ripristinare l'educazione civica nelle scuole, in più rispetto a quello che si studiava una volta dovrebbe essere insegnato anche il diritto all'ambiente, alla legalità, al consumo alimentare e tutte le varie cose che fanno in modo che il cittadino sia formato e istruito correttamente. Ben vengano queste cose, anzi si dovrebbe veramente allargare il giro di tutte queste iniziative giuste per l'Italia. Anche a Santià procede spedita la raccolta di firme per l'introduzione dell'educazione alla cittadinanza tra le materie di studio. La proposta è stata lanciata dall'Anci e in poche ore avete raccolto decine e decine di firme. Beh, intanto volevo ringraziare Anci per questa proposta interessante fatta ai comuni d'Italia. La città di Santià ha voluto aderire con vigore per sostenere questa iniziativa, per accompagnare questi nostri ragazzi, questi nostri giovani ad avere bene le idee chiare su quello che deve essere il comportamento, l'atteggiamento da cittadini soprattutto nei confronti delle istituzioni e che sicuramente aiuterà e farà in modo che appunto in futuro ci possa essere maggiore attenzione per quelle che sono le questioni che oggi sono all'attenzione proprio dell'opinione pubblica. Grazie.